La nostra regione da domani sarà in zona gialla, però ci sono delle situazioni che preoccupano ancora. Diciamo che è importantissimo in questa fase non abbassare la guardia. Ci sono le varianti, come sappiamo in giro, sappiamo anche perfettamente quali sono i risvolti dal punto di vista della diffusione del virus di queste varianti. Per cui è opportuno, nella maniera più assoluta, mantenere tutte, specie in questa fase, dove ci apprestiamo ad allentare. Grazie al cielo arriviamo alla zona gialla, per cui avremo l'occasione di frequentare più liberamente alcuni spazi, come i ristoranti, i bar, eccetera. In questo caso dobbiamo essere ancora più accorti per mantenere il distanziamento sociale, le mascherine, la pulizia delle mani e tutti quegli accorgimenti che ormai ben conosciamo per far sì che tutto ciò venga mantenuto. E perché no, sperare, combattere, lottare per una zona bianca che ci dà ancora più opportunità. È incomiabile il lavoro svolto dai volontari della protezione civile, dai vostri uomini, soprattutto per organizzare e gestire questi screening di massa che sono stati organizzati un po' su tutto il territorio regionale? Beh sì, qui con Chieti affrontiamo la quarta delle quattro province dell'Abruzzo, è stato un lavoro veramente estenuante e noi dobbiamo ringraziare questi ragazzi. Saranno gli stessi ragazzi che poi lottano sugli incendi boschivi, saranno gli stessi ragazzi che ci daranno una mano per la vaccinazione di massa appena questo sarà consentito e sarà il momento appunto di tutti gli altri.